La vita prenatale questa sconosciuta è stato il tema di un incontro che si è svolto ad Andria e a cui Teledeon dedicherà un approfondimento che andrà in onda venerdì prossimo in prima serata. Intanto alcune anticipazioni nel servizio di Luca Ciciriello. Perché vita prenatale questa sconosciuta? Perché uno degli impegni di questi decenni miei è stato quello di far capire che molto della vita prenatale in termini di relazione tra il figlio e la madre sin da subito non è conosciuta a livello del grande pubblico solo per pochi addetti. Perché è importante questo? Perché l'informazione deve diventare conoscenza. L'informazione è sempre qualcosa di molto superficiale. Noi siamo in una società globalizzata, sappiamo di tutto ma non conosciamo bene in profondità i problemi. Per cui conoscere questo valore della relazione del bambino madre-feto da subito è importante per capire la consapevolezza del valore che oggi purtroppo è cosificato e molto negato. E questo è importante perché sposta un accento dal sapere al sapere. Chi ha fatto il lettino sa che sapere vuol dire assaporare. La bellezza di rendere la scienza un servizio. Questo è quanto. Ecco, qual è il valore della vita prenatale? Beh, il valore della vita è un valore immenso, un valore assoluto. È un valore sul quale non si discute. Noi come Fondazione Il Cuore in una Goccia ci impegniamo proprio per questo. La nostra mission è proprio quella della difesa della vita nascente e soprattutto con una particolare attenzione ai casi, diciamo, dove ci sono delle diagnosi, dove vengono rilevate delle fragilità prenatali. Ecco, quindi ci impegniamo da un punto di vista medico-scientifico sicuramente, ma anche da un punto di vista solidale, quindi sostenendo, accompagnando nelle più svariate forme le mamme in difficoltà. Eccellenza, la diocesi di Andria ha da subito promosso e supportato questo evento. Sì, sì, da subito perché dall'inizio, quando me ne hanno parlato, ho visto la grande attualità, la necessità di raccontare un po' di cose che sono sconosciute alla gran parte della gente e che proprio perché sono sconosciute poi emergono visuali e idee un po' talvolta un po' strane su quel che riguarda la vita prenatale. Per cui siamo molto contenti di poter vivere questo momento di aggiornamento e di studio che coinvolge tutti.